ciao a tutti ragazzi regumi qua sono reati che come avrete visto dalla copertina e come vi avevo promesso un po di tempo fa oggi vado a fare un installazione pulita di questo kit air trigger della extreme rate come vedete qua nella versione più leggera avevo già portato un video dovevo montato gli air trigger di nuova generazione in un controller già dotato già kitato con delle palette sotto mai molti mi hanno chiesto l'installazione pulita su un controller nuovo questo del mio amico davide prima di partire vi invito subito a vedere questo importante video guardate la scheda in alto a destra cliccateci sopra perché da un po di tempo a questa parte si è avvolto il mondo delle modifiche i controller dual sense hanno raggiunto la terza versione e quindi attualmente i kit tutti i kit dell'extreme rate possono essere montati solamente sui bdm 010 e bdm 020 ossia prima e seconda generazione di controller dual sense ma bando alle ciance andiamo subito ad aprire il nostro kit extreme rate che come al solito ci fornisce quasi tutta la strumentazione necessaria per montare i propri kit vi dico quasi perché io vi consiglio vivamente di comprare un tronchesino come questo e delle pinzettine come queste perché vengono veramente molto bene anzi i tronchesi sono obbligatori per adattare questi pezzi di plastica ma tutto il resto potete cavarvele effettivamente con la loro dotazione tirato fuori tutto il contenuto eccolo qui iniziamo a smontare il nostro controllo avrete visto che sono munito di unghie tipo shrek lo faccio apposta perché guardate quanto mi vada a semplificare la vita in questa operazione che altrimenti vi assicuro senza avere questo unghietta diventa un po difficile tirate la vostra mascherina verso l'alto ormai l'ho ripetuto 100 volte lo stesso tempo tiratela verso di voi fate attenzione a non spaccare i due pernetti di plastica lascio la bustina chiusa intanto gli strumentini sono pieno le viti non ci servono a meno che non ne perdiate mentre smontate i vari pezzi del controller prendiamo la nostra palettina tiriamo giù il nostro trigger ed estraiamo in questa maniera i nostri bumper fatto l andiamo su quello di destra a questo punto lo sapete ormai le quattro viti sono nascoste sotto i bumper per quanto riguarda quelle davanti le altre due sono sui gambi alla fine del gambo e una volta svitate anche queste le prendiamo tutte le mettiamo da parte occhio a non perderle giriamo il nostro controller in questa maniera lo appoggiamo sui bumper e trigger facciamo una leggera forza in modo da attendere a separare le due plastiche i due gancetti da sganciare sono uno qua e uno qui le vettina ne sganciamo uno sganciamo anche l'altro al questo punto andiamo a divaricare le nostre plastiche eccolo qua il clac non vi deve preoccupare prendiamo la scocca posteriore che adesso non ci serve mettiamola da parte e come sempre lo dico vediamo se mi seguite da tempo oppure no la prima cosa da fare è andare a togliere la nostra batteria questo per evitare cortocircuiti sgradevoli durante lo smontaggio dei vari pezzi del controller procediamo quindi e qua vengono bene le nostre pinzette a sganciare uno dei due microfoni cacciavitino alla mano andiamo a togliere lo sportellino che regge la nostra batteria mettiamo da parte anche lui come vedete il microfono lo sganciato perché viene via insieme allo sportello andiamo a sganciare l'altro microfonino vedete si riesce tranquillamente a mano e sganciamo il flat quello della motherboard quello principale se ci riuscite a mano lo fate in questa maniera se non ci riuscite andate a prendere le vostre pinzettine le buttate qua sotto qua dentro e molto piano poco alla volta andate a staccare il vostro flat piccolo consiglio dategli una pieguzza all'indietro in modo che resti più dritto perché poi dovrete infilarlo dentro questo forellino durante il montaggio vi faccio vedere dopo e questo aiuta l'operazione dobbiamo sganciare poi togliere i flat quelli che collegano la motherboard ai nostri motorini dei trigger e dei bumper quello di sinistra dopo di che togliamo quello di destra li mettiamo da parte anch'essi e a questo punto siamo pronti a aprire ancora il nostro controller togliamo queste due viti una da questa parte andiamo a svitare l'altra da quella parte e a questo punto separiamo la parte centrale del controller dalla parte superiore che andremo a mettere via perché non ci serve ok ragazzi giriamo il nostro bel controllerino e da questa parte lo appoggiamo così vedete ci sono due viti per parte che tengono tutto il meccanismo dei trigger e dei bumper iniziate dove volete destro sinistro non fa alcuna differenza dopo che avrete svitato le due viti ecco qua che vi rimane in mano il vostro motorino dei bumper e trigger prendete nuovamente le pinzette andate a staccare il flettino che collega elettricamente il contatto alla schedina a questo punto non vi resta che svitare una due tre e quattro viti ok ragazzi una volta svitate tutte e quattro anche queste mettetele un attimo da parte andiamo a sollevare lo sportellino e lo andiamo a mettere via nella bustina non ci serve più come non ci serve più né il martelletto né il meccanismo dentato che c'è dentro il nostro motorino vado a togliere il pernetto che tiene il tasto del trigger attaccato alla struttura la vado a togliere in questo modo e qua vi faccio vedere a cosa serve il tronchesino vedete che qua sulla punta del cacciavite c'è uno spuntone di plastica andrà assolutamente tagliato posizionate il vostro tronchesino a filo nel filo più basso del vostro pigullo io ci metto un ditino davanti così non mi schizza negli occhi vado a tagliarlo ed ecco qua il pezzo di plastica che viene via questo serve perché a questo punto dovremo andare vedete qua ci sono uno due tre buchini ad installare uno dei due pernetti che abbiamo preso all'inizio vi ricordo che il steam rete ne fornisce il doppio di quelli necessari quindi io ho tolto questi due a destra potevate togliere anche quei due a sinistra era la stessa identica cosa ci sono differenze tra il trigger di destra r2 quello di sinistra r2 ha questo buco più grosso rispetto a l2 quindi vado a prendere il mio pernetto che come vedete ha la parte più grossa rispetto all'altro lo vado ad inserire dentro eccolo qua e vedete che mi dà questo leggero spessore che sarà lo spessore su cui andrà a fare battuta il nostro switch prendiamo di nuovo tutto il motorino con le nostre pinzette andiamo ad estrarre quella che è la membrana di azionamento e il circuito stampato dei nostro motorino bumper e trigger lo vado a mettere via anch'esso nella bustina e lo vado a tenere qualora domani volessimo tornare indietro a questo punto prendete uno dei due sportellini in dotazione qua vi dicevo di nuovo serve assolutamente il tronchesino perché nella bdm 020 ossia quello che ormai troverete da tutte le parti dovrete andare a tagliare questo pernetto lo vedete anche da questa angolazione questo pernetto andrà assolutamente rimosso se no non riuscirete a montare lo sportellino nel vostro motorino guardatelo ancora una volta mi raccomando non sbagliate guardate come sto mettendo lo sportellino lo giro quello che devo andare a tagliare questo qui davanti vado anche in questo modo a filo per lasciare meno spazio possibile ditino davanti per non farmelo schizzare negli occhi eccolo qua di nuovo e a questo punto posso andare a montare la schedina dell'extreme rate qua dentro aggancio a destra come vedete lo switch vado poi a fare una pressione verso il basso per agganciarla anche qui a sinistra assicuratevi magari tenendo lo sportellino con due dita e muovendo leggermente lo switch che sia ben saldo e installato in maniera corretta a questo punto prendete l'altro switch e lo andate a inserire guardate il lato sempre lo andate inserire da questa parte lo mettiamo un po inclinato dopodiché con le nostre pinzette lo andiamo a premere vedete diventa parallelo e qua una piccola accortezza per montarlo seguitemi bene perché è una cavolata ma vi assicuro che il risultato finale cambia tantissimo ve lo faccio vedere qua da questa parte vedete questo pezzetto metallico è il pezzetto metallico del mio switch dovete cercare di montare lo switch in modo che lui sia il più basso possibile montato vedete nella maniera più attaccata possibile alla parte di plastica qui sotto ovviamente appena lo lasciate vedete lui si muove verso l'alto io lo rischiaccio lui si muove e così via allora un trucchetto che ho imparato montandone a decine è quello di tenerlo basso con il polpastrellino andarlo a tenere in questa maniera dopodiché andremo a bloccare il tutto mettendo il nostro trigger con la modifica che avevamo preso prima lo andate agganciare in questa maniera e una volta adesso sto tenendo con il tasto giù il tastino andiamo a mettere il nostro cilindretto metallico a questo punto vedete il mio ferretto è quanto più vicino possibile alla parte bassa della plastica e a questo punto non ci resta che andare a chiudere tutto lo sportellino in questa maniera ecco qui che l'abbiamo chiuso proviamo subito a vedere se clicca lo switch del trigger direi di sì e quindi possiamo andare a prendere le nostre belle quattro vitini non ve le scordate tutte quattro io metto per prima quella da questo lato e la vado a serrare in questo modo mettendo prima quella da questo lato lo sportellino di fatto resterà chiuso e potremo andare comodamente a installare le altre dall'altro lato e adesso ragazzi vi dico una cosa che do sempre per scontato ma effettivamente è giusto ricordarla vedete questo motorone qui è quello che fa girare quella ruota dentata infinita che serve per le funzionalità di trigger adattivo i contatti di questo motore sono questo filo nero e questo filo rosso sono saldati qui e qui per non fare funzionare il tutto e non sentire rumori dei tlac strani durante il funzionamento dovrete andare in impostazioni della playstation e mettere a zero l'intervento dei trigger adattivi qualcuno effettivamente mi obietta che cambiando gioco magari invece lui verrebbe bene avere questo trigger adattivo e quindi ogni volta passando da un controller all'altro dovrebbe andare in impostazioni attivare e disattivare se voi lo vedete lasciare sempre attivo e quindi non avere però il problema di sentire i rumorini provenienti da questo controller modificato la strada più facile è quella di tagliare o di saldare i due filetti potete farlo non succede assolutamente niente se li tagliate sarà più difficile domani andarli a risaldare perché vi dico che spellare sti fili è veramente da perderci la testa se invece avete un saldatore andate a scaldare un po' lo stagno li disaldate li isolate un po' di nastro isolante e li potete nascondere vedete qua dentro c'è una fessurina che sembra fatta apposta io di fatto li lascio e vado a chiudere a richiudere ripiegando in questo modo vedete qua che fa una curva lo prendo lo piego verso l'interno e vado a inserire il mio contatto dentro al contatto della nostra scheda assicuratevi che il contatto sia bello giù fino in fondo guardate come fatta bene la schedina extreme rate che si va inziccare qua dove c'è anche questo fermetto sembra veramente tutto fatto nato apposta per alloggiarla a questo punto non farete altro che rimontare il vostro motorino sotto il vostro controller eccolo qua che giustamente le viti spuntano fuori perché andranno avvitate avvitate prima una avvitate anche l'altra e adesso ragazzi siamo pronti andare ad affrontare a modificare quello dall'altra parte visto che il montaggio e l'operazione da fare da un lato è identica a quella che vi ho appena fatto vedere non cambia assolutamente nulla se non vi ricordo ancora lo spessore di questa padelletta che per l'l2 è più sottile l'unico cambiamento è quello quindi non vi tedio un altro smontaggio rimontaggio modifica del motorino di sinistra se avete dei dubbi ritornate a vedere quanto ho fatto per questo motorino perché vi assicuro ve lo giuro è la stessa identica operazione prendiamo la parte superiore del controller come vi dicevo linguetta dritta qua semplifica questa operazione io mi vado a rigirare il tutto vedete qua che c'è una scanalatura dobbiamo passare qui dentro con il nostro flat per quello che ve l'ho fatto mettere dritto altra accortezza vedete il flat è storto che punta verso l'interno prendete le vostre pinzette lo tenete leggermente fuori in modo da non ritrovarvelo incastrato poi dentro una volta assemblate le due parti potrete già andare a inserire il flat del microfono e il flat principale sulla vostra motherboard mi raccomando guardate come lo sto inserendo e guardate quanta attenzione faccio nel buttarlo dentro parallelo e fino in fondo perché si resta leggermente storto così come qualsiasi altro flat del vostro controller poi sono problemi una volta riassemblato tutto non scordatevi le due vitine quelle che tengono attaccate la parte superiore e centrale del controller a questo punto cosa manca beh mancano i due flat anche qui fate molta attenzione a inserirli belli dritti e belli fino in fondo come vedete vi aiuta questa righetta nera che hanno messo presumo apposta vi aiuta effettivamente per vedere se il flat effettivamente è inserito fino in fondo ma soprattutto se è inserito parallelo e non obliquo andiamo a inserire anche quelli da questo lato stesse accortezze di prima e adesso una volta sicuri di averli inseriti in maniera corretta prendete lo sportellino lo andate a piazzare in questa maniera e una volta inserito potrete andare subito a fissare la vite e dopo inserire il flat del secondo microfono montato sul sportellino un'altra piccola accortezza mettete un dito qua sopra al microfono in modo che non si sposti non esca fuori perché poi una rottura di scatole metterla dentro pinzette alla mano andiamo con le pinzette a inserire il nostro flat all'interno come vedete è un'operazione semplicissima entra benissimo sta col dito a questo punto ragazzi tutte le connessioni sono ripristinate non ci resta che andare a prendere la nostra batteria c'è una piccola lineetta che vi fa vedete capire il verso la andiamo a posizionare con il dito indice la spingiamo fino in fondo fa un piccolo tlac e a questo punto andiamo a girarla mettere i nostri fili sotto al gancetto in modo che resti tutto raccolto eccolo qua e ora possiamo andare a chiudere il nostro controller a questo punto prendiamo la nostra parte inferiore appoggiamo il nostro controller presentiamo la scocca qui dalla parte vedete dei bumper si va a incastrare perfettamente lì da una parte dall'altra una volta incastrata andate verso il gambo in indietro andate a incastrare tutti i vari incastrini assicuratevi che anche vedete queste parti facciano il click per la chiusura e una volta chiuso tutto potremo andare a rimettere le nostre quattro viti due sotto i bumper e due qua dai gambi ok ragazzi le abbiamo messe tutte e quattro controlliamo un attimo la stretta a questo punto possiamo tranquillamente prendere la nostra mascherina questa potrebbe essere un'operazione un po noiosa ad ogni modo dobbiamo andare a inziccare a infilare questi due pigulli dentro vedete cercate di farli incastrare ecco qua spingendo leggermente devono fare questo track vedete l'ha fatto quello di si di destra deve farlo anche quello di sinistra una volta fatti questi track associati bene lì andate verso dietro sollevate se necessario non sforzate perché qua ci sono due pigulletti che se si mettono storti poi si spaccano ma una volta poi incastrato tutto anche qui vedete in centro il controller è a posto trigger digitali funzionanti eccoli qui ma adesso dobbiamo andare a rimontare i bumper e come vi dicevo c'è questa piccola bandella gommosa adesiva la prendiamo con le nostre belle pinzettine eccola qui guardate che piccolina che è e la andiamo a sistemare nella parte allora vedete superiore dove è più dritto non quella tonda sotto ma superiore c'è il pernetto di inserimento ce l'andiamo a inziccare ecco qua qua sopra in questa maniera una volta messa magari con le pinzette la facciamo aderire per bene uno di qua ecco di là e una volta sicuri di averla messa bene non faremo altro che andarla a sistemare sul nostro controller piccola pressione ed ecco lì che il nostro bumper è montato stessa cosa faccio dall'altra parte anche da questa parte facciamo una piccola pressione ed ecco lì che il nostro bumper anche sinistra è montato ragazzi a questo punto vi dovrei dire che differenza c'è fra versione leggera e quella pesante ebbene a me così a sensazione mannaggia la misera che non ho una versione pesante qua per fare la comparativa ma a memoria sinceramente mi sembrano assolutamente offrire la stessa resistenza sarà che sono degli switch talmente piccoli ragazzi che sentire una forza maggiore azionandoli rispetto agli altri o minore è veramente difficile e quindi io sinceramente vi consiglio sempre la versione forte non cambia veramente praticamente nulla ma la parola è forte mi fa pensare che forse potrebbero durare più nel tempo chi lo sa magari è semplicemente una cavolata psicologica ad ogni modo ragazzi guardate qui corsa minima del trigger corsa minima del bumper quasi non si vede ai trigger che vi consiglio questi da 20 euro rispetto a quelli vecchi quelli vecchi invece li ho ecco qua il mio controller uno dei primissimi controller questo addirittura un bdm 0 10 qua avevo montato i trigger vedete digitali guardate quanto è la corsa rispetto a questi nuovi digitali come vedete la corsa è molto molto inferiore quindi ragazzi ovviamente se vi è piaciuto il video anzi no anche se non vi è piaciuto dopo tutto quello che ho fatto per favore lasciatevi un like iscrivetevi al canale accendete la campanella noi ci vediamo prossimamente con dei prossimi contenuti vi ricordo che è uscito il kit con le quattro palette queste sono di plastica sono uscite anche quelle metalliche ci vediamo veramente alla prossima qua è tutto un salutone mega ticker e ciao ciao